...e andate dietro a guardare il corrimento all'osterno, portate dietro le spalle e andate a guardare il grande stand, e chiudo l'inferno del popolo del mondo del sole. ... наконец per ipodio con il suo genio amarello e che la banca anch'ho già qui abbiamo ... No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no E' proprio questo che succedeva nel rituale perché quella stessa comunità che ha creato il disagio va a dominare per risolverlo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti